Eccoci qua, ciao a piacere Alex, complimenti, avete un negozio favoloso, bellissimo, profumato, colorato, brave. Bene, è vero ragazzi, ci sarete anche voi l'evento Fashion da 25 marzo e 1 aprile, qui con Toon, vero? Certo, dove sporremo comunque i nostri gioielli, firmati Toon. Ebbene, infatti, perché Toon non è solo oggettistica, ma è anche gioielli, questi fantastici gioielli che hanno qui le nostre amiche. E allora, ci vediamo con Toon all'evento Fashion dal 25 marzo al 1 aprile.